Sì, l'oggi non avete partecipato alla protesta dell'Europa che... Guardi sono arrivato adesso, c'è già una protesta ancora prima che arrivi io. Farage! Ah, farage è fantastico. Abbassatevi partecipato, non lo segno. No, io non ho sicuramente niente di questa situazione. Questa ci porta all'Europa. Un messaggio d'amore, di pace. Grazie, accelerate, per favore. Accelerare. All'Europa, dov'è? Guarda che rampicanti. Ma queste le durante il vino non hanno dato le spalle come i colleghi di Farage? Guardi, lo chiede a loro perché non so. Non so, sono arrivato adesso e l'unico che mi dà le spalle è sempre questo signore qua. Ma non credo lo faccia apposta, è vero? No. Lei non lo fa apposta. Non è che mi tratta. Faccio per cercare di un'altra come i Junker, come Sciuzzi. Buongiorno, grazie. Ciao.